Cari amici della Fondazione Inaudi, puntata numero 7 di prediche moderatamente utili, sempre nella splendida cornice della sala convegni della Fondazione, con le figie di Inaudi e Malagodi a darci il loro benevolo contributo di idee. E' ispirazione soprattutto. Oggi parliamo di un fenomeno piuttosto interessante. Allora, quasi tutti sapete come Totò nel film, nella finzione, vendesse la Fontana di Trevi a un facoltoso bensì ingenuo americano, ma quello era un film. I Totò cinesi, invece, nella realtà, hanno venduto non la Fontana di Trevi, ma le vie, nel senso non di strade o di piccoli, bensì di Variable Interest Entities. Allora, che cosa sono questi strumenti finanziari? Dovete sapere che le società straniere non possono investire direttamente in azioni di società cinesi. Quindi, gli stranieri che vogliono partecipare agli utili delle società internet, delle società tecnologiche cinesi, hanno un problema. Perché? Perché il mercato dei capitali cinesi non è libero. Cioè, gli stranieri non possono investire direttamente. Per esperienza personale, essendo stato capo delle strategie di un fondo, se volevamo comprare società cinesi, avevamo bisogno di una particolare licenza concessa dalle autorità di Pechino a entità straniere. Allora, per aggirare questo divieto, sono state create queste vie, queste Variable Interest Entities, che sono dei contratti, sostanzialmente, che danno diritto a ottenere gli utili, i dividendi, delle società straniere. Ma sono contratti stipulati con SPV, Special Purpose Vehicles, quindi società ad hoc, società che hanno il solo scopo di costruire uno schermo. Insomma, sono entità vuote, ma non si è un amministratore, ma neanche una segretaria, quindi sono quelle che si chiamano anti-shells. Sono società che venivano tendenzialmente messe in piedi nelle game. E adesso che cosa è successo? È successo che le autorità di Pechino hanno detto ma guardate che queste vie sono illegali. Quindi, chi ha acquisito, chi ha acquistato o credeva di acquistare partecipazioni in società cinesi o credeva di poter partecipare ai profitti di queste società tecnologiche cinesi potrebbe ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Insomma, Gabriele, entriamo un po' in dettaglio. Spiegaci in realtà quali sono le caratteristiche di queste variable interest entities. Proviamo un po' di spiegarlo con dovizia di particolare. Allora, diciamo che utilizzando una vie, una società, come diceva Fabio, può controllare un'altra società attraverso l'utilizzo dei contratti piuttosto che con la proprietà di azioni o di quote della società. Che non sono detenibili da stranieri. Esattamente. Quindi è come se ci fosse uno schermo. Veniva girato. È passato, diciamo... Il divieto per gli stranieri di investire nel capitale azionario. Si costruisce una società veicolo e si lega a un rapporto contrattuale con la società. Quindi la società è autorizzata contrattualmente poi a consolidare le operazioni della via con la società madre, in caso di specie cinese, per esempio, visto il divieto. è come se fosse una consociata interamente controllata e quindi ne include poi i risultati nel proprio bilancio. Però nonostante il fatto che compaiano nel bilancio della società, questa non possiede le attività, come dicevi tu Fabio, e nemmeno ricavi dell'entità. Che un'azienda, per esempio abbiamo visto, tecnologica privata, dicevi tu prima, per i dividi che ci sono in Cina può ottenere una licenza internet governativa, può costruire una società nelle isole di Kaiman in cui gli stranieri possono investire. Quindi la società privata, in questo caso, che fa Fabio, firma dei contratti con la società pubblica, trasferendo il controllo poi a sua volta della via, a sua volta la società pubblica. Quindi la società pubblica dove investono gli stranieri avrebbe il controllo contrattuale della tecnologia, della licenza internet in Cina. Ma tecnicamente quei beni sarebbero però ancora di proprietà della società privata in Cina, non della società pubblica. Questo è il problema. La società pubblica dove vanno poi investire gli stranieri non possederebbe nulla di fatto. Cioè in pratica una quota di azioni o un certificato azionario certifica la proprietà di una parte della società. In altre parole fornisce la prova di un diritto di proprietà su beni aziendali. Al contrario invece una quota di E, spesso erroneamente definita, diciamo nel gergo, così anche nel linguaggio corrente, come quota di azioni. Quota di capitale. Di capitale. Che non vuole. Non lo è. Certifica invece la titolarità di un diritto contrattuale. Che torniamo sempre in lice, un negozio giuridico, no? Su una percentuale degli utili di una società. Esatto. Quindi non ti dà la proprietà di una quota di capitale dell'azienda in cui si intende investire, ti dà un diritto a ottenere in tutto o in parte gli utili di quella società. Esatto. E quindi, diciamo così, è una questione che è completamente... Differente rispetto a... Esatto. Esatto. È un diritto non di proprietà, ma è un diritto a ottenere dei benefici dalla società. Esatto. Ora, il fatto che questo strumento venga dichiarato illegale dalle autorità di Pechino ha delle implicazioni gigantesche per chi li ha investito, perché si ritrova con dei contratti che in realtà sono privi di qualsiasi fondamento giuridico. Quindi, non solo non c'è la proprietà di una quota di capitale, ma pure il diritto a ottenere in tutto o in parte questi utili, quindi i benefici della gestione societaria, potrebbero svalire nel nulla. E insomma, vedremo un po' come andrà a finire questa faccenda, ma ecco, al pari dell'incauto acquirente della fontana di Trelli, gli investitori americani si potrebbero risvegliare con sgradite sorprese. Ricola, ma in un certo senso, sai, queste truffe, in questo caso non sono esattamente delle truffe nel senso, come vogliamo dire, tradizionale del termine, sono elaborati schemi che poi finiscono in un esito truffaldino, ma diciamo, il mondo della finanza a tutte le latitudini in tutti i periodi storici è costellato di questi fenomeni. C'è un'area altissima. Sì, sono umana, cioè ogni innovazione finanziaria poi porta così, con sé degli strascichi poco edificanti. Ci viene in mente, ad esempio, il caso Enrom. Quali sono, secondo te, Nicola, gli aspetti analoghi tra le vie e il caso Enrom? C'è un parallelo che possiamo tracciare? Sicuramente un parallelo lo possiamo tracciare per quanto riguarda il quantum, perché sia per Enrom che per le vie parliamo di trilioni di dollari, cioè non dimentichiamo che mentre Enrom aveva creato tutta una serie di aziende satelliti per indebitarsi e quei debiti non venivano riportati all'interno del bilancio, chiamiamola così, della casa madre, la via funziona all'inverso, cioè la via è una società che si vuota nel mercato statunitense, quindi le azioni di questa via vengono comprate dagli americani, dagli risparmiatori americani e poi una parte di questi soldi finiscono nella casa madre che sta in Cina. Come avete detto voi, questi contratti vie sono dei contratti molto fumosi, perché chi va a comprare un'azione, non la so, sul mercato azionario statunitense di una via non è che va a leggersi il contratto che lega, dovrebbe farlo, dovrebbe farlo, ma non è come, ma molto probabilmente ci vorrebbero forse un esercito di avvocati e di commercialisti dietro che ti vanno a interpretare, e questo se posso avere una parentesi è stato anche alla base dei cosiddetti titoli tossici che hanno fatto saltare il sistema finanziario internazionale del 2008-2009, perché questi titoli tossici erano basati su contratti di 200 pagine, le cui implicazioni non avevano alcuna trasparenza e di cui nessuno aveva capito minimamente il senso. Tanto è vero che poi quando col tempo tutte queste posizioni sono state bagliate, dipanate, ricostruite e in qualche modo sanate, ci sono voluti eserciti di avvocati per capire che cosa le parti avevano sottoscritto perché non lo sapevano nemmeno quelli che i contratti avevano redatti. Infatti voi pensate che nel 2011 Jack Ma ha tirato fuori Alipay dal gruppo Alibaba. Il gruppo Alibaba era in gran parte di proprietà di Yahoo e SoftBank i quali non sapevano nulla che Alipay era stata estromessa dalla società di cui loro erano. Per capirci Alibaba è l'Amazon cinese, detta in soldoni, non è esattamente così, ma è una grossa società di e-commerce. Alipay era il sistema di pagamento che permetteva di operare su questa piattaforma ed era un'entità mostruosa, cioè è tuttora un'entità di dimensioni mostruose, solo overnight, diciamo così, solo per la liquidità overnight ha tipo 400 miliardi di dollari almeno l'ultima volta che ho controllato. Quindi stiamo parlando di cifre stratosferiche. Infatti questo rientra proprio nella politica messa in atto da Xi Jinping che da un lato ha imposto la nascita di un regolatore in Cina che controllerà le quotazioni di tutte le società cinesi che vorranno quotarsi anche eventualmente sui mercati esteri, presentando un piano che potrà essere accettato o no dal regolatore cinese. E poi rientra anche nella repressione che Pechino sta facendo sulle società tecnologiche cinesi, quotate, e sulle società cinesi che gestiscono la moneta perché sono strumenti di pagamento. Non tanto la moneta quanto i sistemi di pagamento elettronico. Questo per vari motivi, perché loro non vogliono mettere, dare a paesi terzi la cognizione di big data, perché il governo vuole gestire determinate informazioni, le informazioni tecnologiche che non devono andare fuori, certamente mi viene una domanda. Mi viene una domanda. Nel momento in cui questi contratti via sono stati stipulati, la società via si è quotata nel mercato statunitense, io non penso che il partito comunista cinese non ne sapesse nulla. Sicuramente lo sapevano, voglio dire, i regolatori cinesi controllano pure il prestito del negozietto dello Sichuan, immagino che su queste cose le USA ce la funziona fatta. E siccome Xi Jinping controlla anche i tribunali cinesi perché sono strutture che appartengono al partito comunista cinese, guarda caso oggi con lo scopo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, viene fuori questo problema della declaratoria di illecità dei contratti via di società cinesi quotate sui mercati statunitensi. Ecco, questo potrebbe creare agli investitori americani un problema, una perdita da trilioni di dollari. No, no, e questo, ecco, parliamo di questo fenomeno, diciamo, di questo, per far capire che nel grande oceano della finanza internazionale, a parte il grande, a parte i default dell'Argentina, del Libano, insomma, che sono questioni più o meno note, esistono tanti scogli a pelo d'acqua che non si vedono esaminando, diciamo, la superficie del mare, ma che rischiano ad ogni piesso spinto di far naufragare qualche grosso player internazionale. Quindi nel magma delle relazioni tese tra Petino e Washington uno di questi scogli potrebbe essere quello che causa un naufragio piuttosto disastroso e quindi, insomma, se la faccenda dovesse deflagrare sappiate l'avete sentita qui per la prima volta e quindi, insomma, ricordatevi che vi avevamo qui a finito. Insomma, per il momento vi lasciamo con questo angoscioso pensiero e vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo a scriverci sui commenti, a mettere un like, così possiamo più facilmente diffondere questi filmati su YouTube e se inviate il link ai vostri amici, parenti e conoscenti ve ne saremo grati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.